A Lucera la situazione contagi Covid fuori controllo. Secondo i dati riferiti dal consigliere regionale Antonio Tutolo si superano i 700 casi positivi in città. 64 sono i deceduti dall'inizio della pandemia per le complicazioni dovute al virus e 1.637 i guariti. Il problema relativo all'aumento dei contagi interessa tutta la regione. Tutolo punta sui vaccini. Secondo le stime fornite dall'ex sindaco di Lucera la regione Puglia ha ricevuto più di 889.000 vaccini e ne sono stati somministrati più di 660.000. A disposizione restano circa 229.000 dosi. Da seconda regione per capacità di somministrazione ora la Puglia è penultima. Per questo Tutolo fa un appello a tutti i medici e infermieri in pensione e non solo, per chiedere loro di partecipare volontariamente alla campagna vaccinale con la collaborazione dei comuni che potrebbero mettere a disposizione strutture pubbliche per effettuare le vaccinazioni. Somministrare i vaccini significa salvare vite umane. Bisogna mettere in campo ogni risorsa, ha detto Tutolo.